Per celebrare una giornata in memoria e in ricordo delle vittime dei campi di concentramento, delle guerre e di tutti gli stermini dovuti a motivi etnici o razziali, avrà luogo domani 8 febbraio dalle 10.30 alle 11.30 un flash mob che si snoderà a lungo corso video in Sulmona e l'organizzazione sarà a cura di tutti gli studenti del polo scientifico, tecnologico e ricofermi. Come mai una scuola ha pensato questa iniziativa che è davvero lodevole? È un'iniziativa che cerca di far correlare gli aspetti didattici di approfondimento e soprattutto di conoscenza che la scuola ha il dovere di diffondere con una cultura giovanile che va intercettata, interpretata in modo tale le correlazioni possano rendere la scuola aperta e aperta il fatto che noi siamo nella città è una condizione che vuole dimostrare questo insieme all'amministrazione, alle associazioni di volontariato e ai nostri ragazzi, naturalmente ai nostri concittadini. Parallelamente a questo però è la chiusura di un percorso didattico, di un percorso formativo che è rigorosamente interpretato dalla scuola. Ma l'aspetto forse più bello, più significativo è che il ricordo e le atrocità della storia, il senso storico possano fluire nella memoria dei ragazzi solo attraverso un'interpretazione della loro cultura. Per questo il flash mob domani. Possiamo dire che questa iniziativa è propedeutica al Freedom Trail, un'altra giornata di ricordo organizzata dal Polo Scientifico Tecnologico. Sicuramente, il Freedom Trail è il nostro evento che caratterizza oramai da molti anni, da 14 anni, il liceo scientifico Enrico Fermi. Naturalmente è un evento che è stato oramai già dall'anno scorso diffuso nelle scuole che sono state aggregate con questa scuola per dar vita al Polo ed è un evento che naturalmente noi viviamo con estrema emozione, con la consapevolezza che anche quella dimensione storico-culturale è diventata negli anni una sperimentazione didattica tra le più ammirate, tra le più osservate in Italia. Alle ore 8 del mattino è previsto l'arrivo degli alunni dell'Istituto Tecnico Industriale di Prato La Peligna nel liceo scientifico Enrico Fermi. Alle ore 10 tutti gli studenti del Polo Scientifico Tecnologico raggiungeranno Piazza 20 Settembre. Il flash mob che dovrebbe cominciare intorno alle ore 10.30 si svilupperà in quattro fasi. L'arrivo in corso a video e l'occupazione delle postazioni, la distribuzione dei materiali e l'accensione dei lumini che nella simbologia esprimono ricordo e vita. Nella terza fase avrà luogo la lettura di taluni brani e infine ci sarà il volo dei palloncini. Per concludere con uno slogan, senza la memoria non può esistere il futuro, credo che ne siamo convinti. Sicuramente, però noi abbiamo scelto anche una frase di Anna Franche che dice questo, mi permetto di leggere, non penso a tutta la miseria ma alla bellezza che rimane ancora. Io penso che le scuole, tutte le scuole, possano ampiamente rappresentare la bellezza perché nello studio, nella trasformazione e nella diffusione del passato c'è un senso di speranza continuo nelle classi. Circa 1300 studenti domani saranno protagonisti di un'iniziativa davvero lodevole e meritoria di un plauso. Appuntamento quinti alle ore 10.30 in Piazza 20 Settembre.